Sono una macchina. Si realizzano pellicole diverse, quindi se torna a Hollywood dovrà reinventarsi come personaggio. Ma fra le vecchie guardie fuori moda c'è chi lo sogna ancora nel cast. Schwarz, del resto, da governatore ha già fatto un'apparizione in I mercenari con Bruce Willis e Sylvester Stallone. Ex culturista austriaco emigrato in California dove è diventato star del cinema e poi della politica, nulla sembra impossibile per Schwarz, a parte diventare presidente, quello non lo potrà fare perché non è nato negli States.